ok nome per l'alessandra cognome mitri categoria master 40 femminile box di appartenenza 774 crossfit 774 ok box altezza del box 50 centimetri ok togliamo cat bell da 12 ok bilanciere da 15 aspetta aspetta ok e i vari pesi per dopo era un povere 15 2 mezzo 1 1 2 kg ok 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 vai 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 ok 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 Grazie a tutti. 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 Carico da 15. 15. Grazie. Buon. 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 We start to fade It's time to go It's time to do two In total, 50-4 Grazie a tutti. 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 30 secondi. 50 secondi. 50 secondi.